Buongiorno o buonasera, dipende da che parte della giornata state guardando questo video. Dopo un basso rilievo in marmo, ci spostiamo su un basso rilievo in bronzo, lavorato dallo scultore fiorentino più richiesto di film di manierismo, anni che vedono il suo concittadino Michelangelo Bonarrotti ormai legato all'ambiente romano. Questo basso rilievo è però solo una parte di un'opera dello stesso Cellini. Infatti era in origine inserito nella base d'appoggio dell'opera più famosa dello stesso scultore, il Perseo, della loggia dei Lanzi a Firenze. Prima di descrivervi questo lavoro, vi devo evidenziare il fatto che il basso rilievo che vedete oggi, alla loggia, è in realtà una copia di questo lavoro celiniano, mentre l'originale è oggi esposto al Museo Nazionale del Bergello, sempre a Firenze. In questo basso rilievo, su base quadrata, al 40x81 cm, l'autore descrive un racconto mitologico che fu più volte sfruttato dagli artisti fiorentini di allora, quello della liberazione di Andromeda. Eccola qua, da parte di Perseo. Eccolo qua. L'interesse per questo evento mitologico era perché gli fu legato un significato politico, in genere come messaggio rivolto ai nemici della famiglia Medici. La protagonista principale è qua al centro, Andromeda. Che si vede che lo scultore è preso in spunto da un modello uomo, per via del corpo mascolino. Lei è la vittima sacrificale di Poseidone, ovvero Nettuno, che la vuole dare in pasto ad un mostro marino. Eccolo qua a sinistra. Come in gran parte delle rappresentazioni artistiche, Andromeda è seduta su uno scoglio. L'eroe che interviene per salvarla è qua, nella parte alta della formella, con tanto di spada, pronto a scontrarsi contro il mostro per abbatterlo. A destra della formella abbiamo il popolo, che assiste alla liberazione della fanciulla, identificata con Firenze. E nella parte alta a destra della formella, uno scorcio urbano, con scontri tra cavalieri. Altro motivo della scelta da parte della commissione, ovvero Cosimo I della famiglia Medici, di questo soggetto è semplicemente per il fatto che è legato alla storia di Perseo, personaggio mitologico a cui dedicato è il monumento in cui era inserita questa formella in bronzo, che il Cellini concluse nel 1554. Lavoro legato a quello della sua statua del Perseo con la testa di Medusa, commissionata nel 1545. Vuoi che parli di un'opera in particolare? Bene, scrivilo sotto i commenti, oppure sul mio profilo Google+. Se il video ti è piaciuto, metti pure mi piace. Se questo canale ti interessa, ti consiglio di iscriverti. Ti ricordo che ho altri due canali, Prosto e il Fumettaro e il Giardino del Prosto, di cui vi consiglio di dare un'occhiata. E magari iscrivetevi anche lì. Io vi ringrazio per la visione e arrivederci al prossimo video.